Ciao, sono Max Silvernag, sono autorepresentatore dell'Osservatorio Provinciale per i diritti delle persone con disabilità fisica. Le persone con disabilità fisica hanno avuto problemi nel lockdown, soprattutto con contatto fisico con altri. È stato un po' difficile con tutta la digilizzazione durante il lockdown perché tante persone con disabilità sono andate sempre nei uffici e non erano abituati a fare tutto questo con computer e hanno avuto tanti problemi.